Sto facendo la Film Commission a Torino, perché io lavoro... Perché così stai comoda. Sì, però oltre a quello, grazie a Cielo, però è anche il fatto di... Cioè, a me fa piacere che parli una bella della mia città, perché è una bella città e si stanno facendo un sacco di cose, e c'è un fermento che in altre città non c'è. Solo che noi facciamo sempre finta di niente, gestiamo un po' sulle nostre, invece bisognava gridarla questa cosa. E anche un po' convincere i torinesi, che tutto sommato sono anche abbastanza accoglienti, del fatto che questa è comunque una cosa che serve anche alla città economicamente, no? Per cui se ci sono delle strade che sono bloccate, che non si può posteggiare, che ci sono i cambi, eccetera, sì, è una scocciatura, però è un indotto per la città, fortissimo, che poi porterà altre cose, e quindi bisogna avere un po' di pazienza e accettare anche quello. Grazie.